Due nuove adesioni nel gruppo politico Pettineo Domani, in vista delle elezioni amministrative che si svolgeranno nel 2022. I nuovi componenti del gruppo, del progetto politico del sindaco di Pettineo, Domenico Ruffino, sono due giovani, Francesca Cuva e Sebastiano Di Francesca, molto conosciuti e impegnati nella comunità. All'incontro per lo scambio di aguri nei giorni scorsi, Francesca Cuva, dottoressa in decorazione specializzata in illustrazione presso l'Accademia Nemo Academy di Firenze, si è detta entusiasta e motivata per il nuovo impegno. La mia adesione ad un gruppo già consolidato, che con profigo impegno ha dimostrato di poter migliorare molti aspetti del nostro paese, è per me motivo di orgoglio, dichiara. È una proposta che ho accolto con grande entusiasmo e sono pronta, con coraggio e sensibilità, a prodigarmi soprattutto a favore del convolgimento dei giovani, ai quali chiedo interesse e partecipazione. Dopo questo lungo periodo, che ci ha costretti a stare lontani fisicamente, conclude Francesca Cuva, sentiamo tutti il bisogno di trovare un nuovo equilibrio per il raggiungimento del quale serviranno ascolto e condivisione di intenti. Sebastiano Di Francesca, invece, è laureato in Scienze Politiche, è un giovane da sempre appassionato di politica e impegnato in diversi ruoli e attività di partito, culturali e sociali. Si dice determinato per il nuovo percorso che lo attende. Darò il mio contributo all'opera dell'amministrazione Ruffino, che come noto si riproporrà alla guida del piccolo ma vivace comune Nebroideo. Sono da sempre stato alternativo ad un certo modo di intendere e fare politica, afferma Sebastiano, nel nostro paese. E nonostante alle passate elezioni fossi uno dei candidati della lista avversaria a pettine o domani, risultando il primo dei non eletti fra le fila della lista Progetto Futuro, e entrambi gli schieramenti incarnavano il desiderio di cambiamento che i cittadini da tempo manifestavano. Oggi che si inizia a delineare quella che sarà la sfida elettorale della prossima estate, entro a far parte di un gruppo che ha dimostrato di voler lavorare per il miglioramento del nostro paese e il benessere della nostra gente. Lo faccio con convinzione e con la voglia di impegnarmi per lo sviluppo e la crescita del nostro territorio, in un contesto economico-sociale sempre più globalizzato e competitivo, che ci espone a molteplici rischi, tra i quali l'ulteriore contrazione dell'economia locale conclude. L'adesione di questi due giovani al nostro progetto politico, afferma Domenico Ruffino, testimoni e conferma che il lavoro svolto dall'amministrazione è fondato sulla necessità di acquisire nuove idee per continuare il percorso tracciato, nell'ottica di un impegno dedito allo sviluppo e alla crescita del nostro territorio. Grazie.